Mi dicono che era spettacolare, che era una ragazza al di fuori del comune, quindi non vorrei che si perdesse niente di lei, vorrei che le nuove generazioni si ispirassero a lei, per come ha condotto l'esistenza. Questo può essere un modo forse per indicare la strada, le nuove generazioni, questi progetti di esempio che state mettendo in campo? Sì, proprio a questo abbiamo pensato, ho pensato quando mi sono posta il problema dove trovare la mia Ellie, la mia Ellie la posso trovare dei ragazzi, dei ragazzi che ne seguono un esempio, e quindi ho pensato a fare proprio di lei una sorta di simbolo, il simbolo della non violenza, insieme a Daniele, tutti e due, due alberi che continueranno a crescere, perché ogni anno ci ricorderanno il loro sacrificio quando si tingeranno di rosso, perché questi sono alberi pastolari che hanno una ferritura rossa intensa, e quindi ci sarà modo. Non riesco neanche a pensare a chi ha potuto ordine un delitto del genere, io non lo penso mai questo personaggio, mi lo ricordano gli altri, ma io penso che la giustizia deve fare il suo corso e deve essere esemplare adesso nei confronti di chi ha commesso una cosa del genere. Grazie. Grazie.